ciao ragazzi quest'oggi vi faccio questo video per mostrarvi un po di più nel dettaglio il demo box dato che molti di voi mi hanno chiesto informazioni su instagram e su facebook a questo punto ho deciso di fare questo video per spiegarvi un attimino che cos'è questo box innanzitutto l'ho trovato qualche mese fa anzi quest'estate su subito da un ragazzo che poi si è scoperto essere il figlio di un grossista di fumetti e carte in generale questa cosa tra l'altro confermato le mie teorie su questo su questo box in particolare innanzitutto è abbastanza grande massiccio misura circa una ventina di centimetri di lato è leggermente rettangolare anche se da qui sembra quadrato come potete vedere non ha grandi scritte se non il copyright che leggete qua della game freak e della wizard of the coast come potete vedere anche dietro non ha codice a barre ISBN questo perché il box non era venduto innanzitutto diciamo che esiste in varie lingue tra cui appunto l'italiano il tedesco del tedesco sono foto e anche del francese mi dicono che ne esistono foto inglese se ne è visto qualcuno in giro soprattutto sigillato questa è la grossa particolarità mi dicono che il tedesco è stato venduto sigillato mentre di italiani ne ho tenute traccia di tre incluso questo di cui uno potete trovarlo listato su ebay è listato come pokemon pre release set base box il prezzo diciamo che direi che nonostante sia un oggetto rare puramente indicativo diciamo che è un po' per scoraggiare affaristi e gente che non non ha idea di che pezzo sia praticamente questo box è stato insieme al demo pack il primo prodotto della wizard of the coast relativa ai pokemon infatti questo box qui non è un oggetto destinato a un pubblico di bambini questo perché le teorie più accreditate dicono che questi box venivano distribuiti ai principali grossisti di games fumetti e carte ovviamente nei paesi in cui doveva ancora essere lanciato il brand dei pokemon adesso aspettate un attimo che lo sposto un attimo stavo dicendo che questo box veniva distribuito al puro scopo dimostrativo nel senso che era proprio un box che diceva questo è il brand dei pokemon questa è la tipologia di prodotto che verrà venduto dobbiamo convincerti noi wizard a investire dei soldi su questo nuovo brand perché secondo noi è promettente e infatti il box di fatto contiene è un box sample contiene un sample per ogni tipologia di articolo innanzitutto qua vediamo che nella scatola non c'è niente semplicemente una scatola di cartone come vedete non si è questo in particolare non si è conservato benissimo non penso di avere il migliore dei tre come stato di conservazione però mi ritengo molto fortunato dopo anni che lo stavo cercando averlo trovato in generale allora innanzitutto contiene allora questa vetrofania non era inclusa ma è esattamente uguale a quella che era inclusa per cui l'ho messa insieme perché quella originale è in realtà molto più grande vedete questa è una vetrofania dove praticamente cioè chiamata appunto vetrofania potete trovare come window cling window sticker è in vinile e veniva attaccata al vetro solitamente con con l'utilizzo dell'acqua e serviva a indicare che le carte di pokemon venivano vendute in quel negozio il cling di questo box è molto più grande e questo è confermato ad essere incluso in ognuna di queste confezioni infatti avendo trovato prima questo piccolino qui pensavo provenisse da una di quelle in realtà no poi una volta invece se confermato essere un altro cling a parte poi una volta aperto troviamo il pezzo più importante secondo me della della scatola che è questa rivista rivista è una specie di libricino però questo è il vero cuore del del box in sé ma lo lasciamo un attimo da parte ve lo farò vedere nel dettaglio come ho detto il box aveva lo scopo di mostrare qual era la tipologia di prodotto allora come vedete qui è contenuto un mazzo il mazzo starter da due giocatori e tre bustine con i artwork diversi ora in realtà questo non è l'assortimento originale cioè il contenuto originale scusate perché è stato stampato questo box in un periodo in cui non erano ancora state stampate le carte vere e proprie in italiano per cui questo box in origine aveva un mazzo starter inglese non shadowless niente non con i simbolini delle simbolini bianchi e neri sul retro e neanche gold strip per cui un generico mazzo unlimited inglese e idem per i pacchetti nel senso che conteneva dei dei pacchetti unlimited inglesi un po per intenderci non shadowless quindi con la scritta trading card game in alto come tutti la conosciamo e appunto il contenuto originale era inglese ovviamente collezionando solo italiano ho voluto omaggiare questo box riempiendo soltanto di materiale interamente italiano qua vedete c'è un altro mazzo che in origine non c'era semplicemente qua avendo perso il gommino sotto si creava più spazio quindi ho deciso di mettere due mazzi in modo che rimanesse rilevato e anche perché secondo me aveva anche più senso il fatto che ci fossero due mazzi per iniziare a provare a giocare e passiamo quindi al alla rivista che secondo me è il pezzo che vale forse tutta la confezione a parte il fatto che le illustrazioni di questa piccola rivista sono puro oro contiene anche una serie di dati e una serie di informazioni che fanno capire come il trading card game di pokemon era ancora in fase embrionale quando qualcuno andava a sfogliarlo innanzitutto dava una descrizione molto dettagliata del fenomeno pokemon come abbiamo letto questo box serviva di fatto a convincerti della potenza del brand pokemon e quindi comincia a dare dei dati sull'utilizzo piuttosto che il boeing 747 con brandizzato pokemon e comincia a dare dettagli sia per quanto riguarda il mercato americano sia per quanto riguarda il mercato giapponese che già appunto erano già dentro il mondo pokemon vabbè il mercato giapponese già dal 96 passando avanti vedete come il fatto che sia non sia destinata ai bambini si fa sempre più evidente perché parla di target quindi di il target di vendita cioè ragazzini dai 8 12 anni piuttosto che quelli dai 13 15 anni che si comportano in modo diverso che diventano giocatori esperti piuttosto che e gli obiettivi in europa tra cui spingere ragazzi a collezionare le carte sviluppare una rete di distribuzione costruire un'immagine di marca da gioco del gioco di carte collezionabili passiamo avanti qui fa vedere gli altri prodotti famosi che sono appunto i giochi nintendo il cartone animato televisivo la distribuzione di videocassette piuttosto che i peluche i giochi asbro e i tornei andando avanti troviamo lo lo scopo del gioco no ancora informazioni su sulla strategia piuttosto che quanti tipologie di pokemon ci sono i diversi prodotti che possono essere acquistati perché qua vedete il mazzo starter americano e qua nella raffigurazione vedete dei pacchetti che sono shadeless perché hanno il trading card game sotto con le carte qui e presentano anche la scritta tradable card game cards scusate qua vediamo un bellissimo charizard di ken sujimori passiamo avanti anche qui educare ragazzi a sviluppare la propria creatività pokemon è un gioco pokemon è un gioco educativo è un gioco sociale è un gioco divertente quindi qui qui poi vi lascio la lettura nel caso è un gioco è un gioco è un gioco è un gioco appunti come potete vedere è proprio è un oggetto di rappresentanza è un oggetto che doveva essere sfogliato eletto da appunto da un potenziale investitore e niente anche qui vedete gli strumenti serie televisiva distribuzione massiccia nintendo game boy campagna pubblicitaria il fatto che esistesse la lega di attività di gioco organizzato e qua un'altra pagina molto interessante che è per ogni paese europeo la copertura pubblicitaria quindi come possiamo vedere Italia Mediaset primavera del 2000 piuttosto che le altre tv qual è stata la la copertura pubblicitaria dei canali televisivi e qua addirittura dei dati molto specifici che riportano le fasce di età e la percentuale di bambini interessati infatti come potete leggere qui interessamento ai personaggi dei pokemon mostrati da bambini tra i 6 anni e i 12 anni valori da 1 a 7 non so come hanno deciso che la scala doveva essere da 1 a 7 comunque risultati in percentuali che danno un'idea dell'interessamento collezionare o gioco gioco o collezione entrambi 54% maschio e femmina i punteggi sono equivalenti niente questa era l'ultima pagina probabilmente avete visto anche questa immagine magari in internet perché è abbastanza caratteristica con questo sfondo quasi nuvoloso diciamo e niente come vi ho detto il pezzo il box in sé si poggia principalmente su questo tipo di manuale i prodotti in sé non sono unici o imperdibili o shadless o particolari c'è questa gomma piuma spessissima che sembra un po' una specie di di gomma piuma espansa tipo case per strumenti musicali e e niente questo è quanto è un oggetto molto particolare che a molti di voi magari potrà non dire niente però dal punto di vista storico è un oggetto che sicuramente ha il suo fascino proprio perché come dire è di un periodo ancora precedente all'inizio della della nostra passione alla prossima